A rischio il diritto all'istruzione. Con questa motivazione l'Ufficio Scolastico Regionale ha bacchettato i sindaci del Cilento che con un'ordinanza avevano posticipato l'inizio dell'anno scolastico. La campanella infatti questa settimana non ha suonato a cento la Pisciotta, Camerota, Capaccio Pestume e Agropoli per il caldo ancora troppo forte e per la stagione turistica ancora troppo viva. Ma ieri il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra ha sollecitato il prefetto Francesco Russo ad intervenire sui sindaci affinché rivedano le ordinanze che prevedevano lo slittamento del calendario scolastico. Secondo il direttore generale le motivazioni adotte dai primi cittadini non sarebbero sufficienti mentre la decisione assunta andrebbe a ledere il diritto allo studio non garantendo a tutti gli studenti 200 giorni di lezione minimi previsti per la validità dell'anno scolastico. Questo secondo l'Ufficio Scolastico Regionale non permetterebbe la parità tra i ragazzi nell'accesso all'istruzione con studenti che arriverebbero a fare anche fino a quasi una settimana in più di lezione di altri. L'unico motivo accettabile per l'ex provveditorato sarebbe la sicurezza e quindi la presenza di eventuali deficit strutturali negli edifici scolastici. Di qui il contatto con il prefetto di Salerno che potrebbe ora far ricedere i comuni cilentani dalla loro decisione. Non è il primo anno che queste ordinanze sindacali vengono emanate. Forse si potrebbe venire incontro alle richieste del territorio al momento della programmazione dell'anno scolastico.